Ci saranno Elisa Di Nunno, arciere tredicenne del club Montebelluna e il suo compagno Davide Vascon, dodicenne degli arcieri del Drago di Monselice. Ci sarà anche Letizia Todesco, dodicenne promessa della karate del Gisei Budoami di Lamonna il Bellunese. Sono tre dei 250 giovanissimi atleti under 14 che difenderanno i colori del Veneto nel trofeo CONI 2023 che si terrà in Basilicata dal 21 al 24 settembre. Siamo pronti, siamo prontissimi, sono pronti soprattutto i ragazzi e le ragazze, ringrazio loro, 250 più 60 accompagnatori, 6 pullman che partiranno dallo stadio Euganeo. 44 i tornei in programma, 43 quelli a cui parteciperà il Veneto che per la prima volta tra le discipline avrà anche la pallavolo, giovanissimi che si confronteranno con atleti italiani ma anche statunitensi e canadesi. Andiamo anche se possibile per vincere perché agonismo non è una brutta parola, l'agonismo che vogliamo e proponiamo noi è quello sano, in qualche modo gareggiare con e per se stessi e non contro gli altri che è il valore sano che questa manifestazione vuole esaltare. Una macchina organizzativa imponente che già pensa a 2024, quando sarà il Veneto ad ospitare il trofeo. Ho già sondato con i sindaci dell'area del Basso Garda tutta la parte impiantistica, la parte organizzativa. Saremmo 5.000 per tre giorni quindi un'imponente massa proprio di presenze e abbiamo parlato anche col sindaco di Verona Tommasi per un'eventuale ipotetica manifestazione di apertura in arena quindi siamo avanti. Quello che ci manca un attimino è il budget ma contiamo con l'aiuto di tutti della regione in particolare di farcela.